Lei, poverina, immagino la sua disperazione. Leopoldina era adorata da tutta la famiglia. Com'era bella. Suo marito fece di tutto per salvarla. E quando si rese conto che era perduta, si lasciò andare a fondo per rimanere con lei. Questi erano i suoi gioielli. Io li porto sempre con me. No, no. Ancora non mi sono mai sentita dimetterli. Come la capisco, signorina Adele. Perché sa, avrei tanto desiderato avere dei fratelli. Grazie. No, lei non può capirmi. Lei non sa che fortuna sia stata per lei essere figlia unica. No, lei non può capirmi.